Benvenute e benvenuti allenatrici e allenatori di tutta Italia nel nostro canale questo Pokémon a chi lo do? Io come sempre sono Roberto e io sono Iacomo Oggi facciamo un video diverso dal solito, un video spacchettamento che non abbiamo mai fatto E' vero, è la prima volta? Prima di quando... No, adesso lo racconti tu Ma prima dobbiamo ringraziare e salutare un nostro follower Che ci ha chiesto se lo salutavamo durante un video Che si chiama Tommaso Bartoli Che ci segue veramente dagli inizi del canale E che quindi noi salutiamo con grande affetto Ciao Tommaso, grazie Ciao, grazie mille Allora, adesso noi dobbiamo introdurre un discorso un po' diverso dal solito E dobbiamo fare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai fatto Vuoi dirlo tu? Sì Vai, spiega Oggi faremo uno spacchettamento online Cioè, spiega bene Cioè, abbiamo raccolto dei codici Sì, da un sito molto famoso che non citiamo per non fare pubblicità E allora noi abbiamo messo questi codici per fare questo video qua dove noi apriremo i pacchetti online Bravissimo, è esatto Questo che ha appena spiegato Jacopo è quello che lui crede che noi faremo Ma che invece non è così Ah, ma dai Perché oggi faremo una cosa un po' diversa Un altro nostro utente ci ha chiesto perché non portavamo qualche collezione un po' particolare Magari una confezione speciale da spacchettare E mi ha dato una bella idea Questo Jacopo non lo sa Difatti cercando di capire che cos'è Qualche giorno fa, durante uno dei miei soliti girovagare nei negozi Ho trovato Ok, l'ho capito Che cos'è? Eh, quel... Quel... Come si chiama? Come si chiama? Quelle scatolella con le cartelle Eh, quale però? Eh, quella di... Zara... Zara... Zaraora? Quello di Leggendi Rididescenti? No Un altro... Zoroark Sbagliato No Che cosa sono riuscito a trovare? Ha un prezzo buonissimo Perché, diciamo, questo sarà un video spacchettamento a metà fra il vintage E il nostalgico Adesso a Jacopo chiuderà gli occhi Quindi lo vedrete prima voi rispetto a Jacopo Guardate un po' Che cosa sono riuscito a trovare Fammi aprire Vai, apri Bello La collezione Jarizard GX Me l'hanno fatta a un buon prezzo Perché, come vedete Ora ce l'abbiamo in tre versioni È completamente distrutta Ma, onestamente, dentro c'è un bel bottino Praticamente io dicevo che c'era una scatola No, ma dai No, ma dai È da un secolo che voglio le monetine Ragazzi, ho trovato questa Adesso vi faccio vedere anche La monetina è bellissima È stupido No, quella è una spillina Eh, ma è bella Allora ragazzi Prima di cominciare Aspetta Prima di cominciare con lo spacchettamento Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciare un commento E lasciare un like Attivate le notifiche Perché ogni volta Noi regaliamo i codici Del gioco di carte collezionabili Online Stavi dicendo? Eh, io sto dicendo che La spilletta Io l'ho vista Sempre C'erano dei amici miei Che ce l'avevano Dei Questa Questa è una gran collezione Questa è la collezione premium Di Charizard GX Adesso Passiamo la telecamera giù Così anche loro Vedono anche loro Che cosa stanno facendo Guarda che bella questa Guarda che questo trio di promo È qualcosa di fenomenale C'è già soltanto Il Charizard GX Guarda che bello Esatto Questi due mi sa che sono Evoluzioni Quelli sono XY evoluzioni Mi sa che sono proprio belli Allora Io comincerei ad aprire Vai Inizia ad aprire Ricordo che Oh no Che cosa? Eh no lo so Infatti è pagata di meno Perché è tutta distrutta Cioè Ma è tutta proprio E tiraviglia Tanto Dobbiamo aprire Vabbè per fortuna Per fortuna che non era distrutta la scatola Che io me la Che io ragazzi me la prendo Me ne prendo sempre Io Jacopo c'hai l'altarino Mi colleziono queste cose Però questa volta Non la Mi sa che non la posso prendere Dobbiamo Vai vai apri apri Eh dobbiamo Fare Di forza dobbiamo No Io volevo la scatola Vabbè vabbè La scatola non c'è Tanto Allora Dai Ci abbiamo fatta Tira via Piano piano Non si è neanche rovinata tanto Allè Ma quanto pesa Quanto pesa Fermo così Aspetta Io me la immagino O meno La mettiamo a favore di telecamera Non si vede la spirulina Allora In questa confezione abbiamo Aspetta Faccio vedere la spirulina Aspetta Aspetta Adesso la sbustiamo proprio Perché fa il riverbero Abbiamo Due pacchetti di guardiani nascenti Belli Un pacchetto di sole e luna Un pacchetto di sole e luna Ombre infuocate In cui potrebbe esserci Uno zardone Iper fenomenale Se lo troviamo In più abbiamo Due pacchetti Di Pokemon XY Evoluzioni E guarda c'è anche quello di Charizard Quindi forse Vero bravo C'è quello di Char E quindi forse Charizard 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 Adesso andiamo ad aprire Capito Forse c'è Adesso lo diamo proprio con caldo Togli via tutti i pacchetti Ce l'abbiamo le copertine No No Mega Charizard Allora abbiamo Questo lo lasciamo qua Due pacchetti Pokemon Questo lo lasciamo qua Perché se no Facciamola vedere Facciamola vedere Ma si rovina Bella Già rovina Guarda che bella Secondo me Secondo me sono Questa carta Jumbo è fenomenale Dove? Un pochino Ma si l'ho messata Però almeno è Guarda che bellezza È giangolo E stai mettiamo qua Ma tutti Charizard Attaccano di 300 Io ho sempre trovato Charizard Che attaccano 200 Poi abbiamo Un'ombra infuocate Un sole e luna Guardia Due sole e luna Guardiani nascenti Bello il pacchetto Bello l'arto Perché E questo è Sole e luna Che è la prima Espansione Del Proprio di sole Della legione di Alola Tipo spadescudo Bravissimo Qua c'è il codice Dell'edizione speciale Che purtroppo Non vi possiamo dare Perché stiamo organizzando Un giochino Con tutti voi Come vi abbiamo anticipato L'altra volta Quando abbiamo aperto Il set allenatore Fuori classe Quindi L'abbiamo anticipato Anche ora E lo dobbiamo ricordare E infine abbiamo Vuoi farla vedere tu? Uh che bella Guardate che figata Aspetta che la metto a fuoco Bellissima Tenilo fermo Eccola qua Guardate che figata Ragazzi A me No A me non piace C'è L'artwork Non è che mi piace tanto Ma è una spilletta Sono belle Sono belle le spillette Poi abbiamo Guarda le pokeball dietro Figata Guarda che poco bella Ci sono anche le pokeball dietro È bellissima Allora Vediamo 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 A me piace questo Sembrava Dell'espansione Textive Pikachu Vero? Aspetta Aspetta Non mi distra Piano piano Ok Uno Io ce l'ho Due E Attento Questo no Questo no Devi stare attento E tre Ok Più la monetina Di La monetina Di Charizard Facciamo vedere subito Perché non collezionare Le monetine? Non solo questo Ci manca Ragazzi Io vi vorrei Far vedere La bellezza straordinaria Di queste tre carte Olografiche E di questo Charizard Promo A te quale ti piace più? Guarda a me Mi fa morire Charmiglion Non mi fa morire proprio Anche Charmiglion Ma questo Charizard GX Guarda Io penso Che questo Charizard GX Da solo Valga tutto Il pacchetto No Secondo me È più bello Charmiglion O Charmiglion No Charmiglion Allora Dividiamo Io voglio questi Tutti e due No Uno ciascuno Come no 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 Uno ciascuno Va bene Allora io mi prendo Questo Questo Sì E questo Ok ci sto Sotto 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 Allora Perfetto Così mi piace Sì Non dietro Aspettate che allestiamo No aspetta Questo Questo penultimo Perché forse c'è qualcosa Tipo Quel Charizard Ok va bene E questo Secondo me non c'è niente Allora Comincio io Mi raccomando ragazzi Stateci vicini Perché qui Rischiamo Il colpaccio Mi raccomando Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Penso Allora ragazzi È bellissimo Guardate Io questo Charizard È meraviglioso Non guardare neanche tu Mi dammi il codice Che così io lo do Mentre tu fai il trick Ma io lo dai Sì certo I pacchetti I codici dei pacchetti Ma qual è il trick di questo? Sempre uguale Siamo già in sole e l'una Lì 3 4 5 e 6 Dietro Perfetto Cioè giusto Giusto Così così No 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 Così perfetto Bravo 5 secondi Voilà ragazzi Codice Dovrebbe essere energia Allora ragazzi Energia erba Aspetta Akamoko Di tipo dragon Quando ancora c'è No no Usa l'altra mano Non ti preoccupare Non mi dà fastidio Vedi che si vede bene Gliscor 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 Clefabon I tipi folletto Quando c'è ancora I tipi folletto Tentacle Clefairy Scommento che non c'è niente Gligar Vanillite Bello Verino sì Un minor reverse Guarda di quanto attacca 190 Questo pokemon Però vi ha messo che un po' Distrugge E muore Cioè si autodistrugge Sì però Vai vai Ce l'abbiamo pure Però questo qua è bellissimo Sì 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 E nelle piccole cose Si deve trovare la bellezza Adesso No no Via 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 Non deve sporcare il nostro charizard Lì ci vanno solo i charizard Ricorda Solo? Sì Allora qua lo metto Allora Un altro guardiani nascenti Vediamo Se almeno tu Spacchetterai bene Codiciozzo per voi ragazzi Spacchetta bene Facciamo un bel trick Uno due tre Quattro E dietro Hai guardato? No no non guardato Non hai guardato Io non guardo mai Allora abbiamo Energia lotta Scambio multiplo Scambio multiplo Questo pure ce l'abbiamo Però Sligo Il tipo di drago Bewer Questa ci abbiamo proprio a palate Barboach Sembra un dog Carvagna Guarda aspetta Qui c'è un altro carvagna È bene Mi hai fatto spazio E andare Flipning Litwick Gotita Scambio multiplo Reverse E Heliolisk Rara Normale Fortuna che almeno Per fortuna abbiamo un charizard Ragazzi Dai vado Vai Questo potrebbe essere buono Guarda qua Ma io proprio Allora se c'è charizard Proprio Mi trovate in giro Per l'Italia A gridare Se c'è charizard Raro segreto Ho visto qualcosa Non è vero Stai facendo prendere un colpo Bravo Questa qua l'hai pure scartato bene Ti hai Grazie No non mi stai Non mi dai il codice Eh Mi sei al contrario Guarda Stai facendo un magliau Allora ragazzi Codice per voi 1 2 3 4 Energia Eeeh Folletto Erba Maaa Folletto Mettiti bene va Allora Energia Folletto Charmeleon Che abbiamo trovato In versione Holo E questo qua Non è in versione Holo Però Ridal Not wall Non ce l'abbiamo questo Tainamo Crabble Incai Mi mancava Lediba Caterpie Ancora Caterpie Mute E Niente Peccato Peccato ragazzi Ora ci puoi salvare solo tu Beh guarda che ci abbiamo Io ho tanta fiducia in quelle due bustine di evoluzione Sole e luna vai No sole e luna non c'è che neanche Eh però può darsi Può darsi qualche giz bella Speriamo che non ci sia niente Così ci sono E poi magari due belle cose nei pacchetti di Metti una gold Sono uscite le gold? Sì No le evoluzioni no Però qua si Dovrebbero essere Speriamo Non sbirciare Non guardare Però poi ragazzi Allora Uno due tre Quattro Energia Fuoco Fuoco Io dico erba Ah Come si chiama questo? Ombra Ombra Tipo ombre infuocale Caramella rara Che ci manca di spada e scudo Pinsir Au Che ci abbiamo Grabby Ancora Growly Poplio Wiggle Sarskid Minorball Sì È un croco Almeno una holo l'abbiamo beccata È un croco Dai Olo Non ce l'abbiamo poi Non ce l'abbiamo Per fortuna Meno male Facciamo spacchetto prima io questa volta Dai Sì Proviamo Proviamo Vai Sai che qua mi sa che il trick è a tre però A tre Sì Ma l'energia ci sta Davanti Mi sa di no perché è cambiato con Con sole e luna Ah non lo so Sai Non lo so sai No forse 4 e 5 Compro è questo Ma per ora spacchettamento deludente Siamo felici solo per le prove Perché quel c'ha ritardato Aspetta che non riesco a spacchettare Non spacchetti Sì Non riesco a spacchettare Aspetta È riuscito Mamma mia ragazzi Guardate questo zardoni che bello Speriamo che qua c'è qualcosa Guarda io sono già contento per questo Bello 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 Questo stava nella confezione Ebbè a trovarle di ste confezioni in giro Aspetta vediamo se ti do il codice Speriamo che trovi Sì questa volta vi stai nel codice Uno due tre quattro Io mi fido di questo trick Ti fidi? Sì Uno due Energia Folletto Psico No Non c'è l'energia Non c'è l'energia Però è un po' Mewtwo Mewtwo Raro Mi sa che ho sbagliato il trick E non ti preoccupare Mewtwo È rara questa Già la rara Sì Perfetto Mewtwo Pikachu surf Ce l'abbiamo questa però? No Non ce l'abbiamo Ci manca? È bello Magma Arriva il team rocket Oppure questo ci manca Diglett Voltor Machop C'abbiamo tutti Growlithe Energia acqua E Rattata Rex Vedi ho sbagliato il trick C'era anche l'energia Ale Dai Spacchetta bene Spacchetta bene Questo è l'ultimo tentativo Non è che non possiamo trovare niente Dai 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 Infatti non è giusto Non trovare niente non è È bruttissimo Non è da noi Ma soprattutto non è da noi Non è da noi Infatti noi troviamo Troviamo cose reverse E dice Uno due tre Ok adesso abbiamo fatto Io ho fatto uno due tre Dai 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 Mi sa che ho visto qualcosa brillare Getto di involuzione Però non c'era l'energia Magma Scambio Seal Stereo The Duo Fonita Tungla 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 Allenatore Reverse Ma dai Non ce l'abbiamo però Niente ragazzi Questo Prende ufficialmente Il titolo Di peggiore Spacchettamento Del Del canale Del mondo Anzi Secondo me nel mondo E' andata male Quindi ci consoliamo soltanto Con Con tutta questa Robina No Non è vero Ci sono anche queste Due No è inutile che cerchi Di Di tirarmi su di morale Eh no c'è Crocodile Che è Olo E questa qua Che è Minor Che è C'è Voi l'avete mai spacchettata Questa ragazzi Ci fate sapere Nei commenti Che cosa ci avete trovato Dentro Io speravo Io ero veramente Fiducioso Sui Su XY Evoluzione E mi sentivo E mi sentivo Che sarebbe uscito pure Qualcosa di grosso In In quello che ho spacchettato Sì Invece abbiamo trovato Solo Crocodile Che era su Sole e Luna E questo qua Che era sul primo Che ho fatto io Ragazzi Non poteva andare Sempre bene Vi abbiamo portato Questo spacchettamento Vintage Perché io ho trovato Questa Viacopo è tristissimo È inconsolabile Ragazzi Quindi ragazzi Noi adesso andiamo a chiudere Altrimenti il video viene lunghissimo Scusate se stanno avvenendo Dei video lunghissimi Ultimamente No non è vero Questo video è cortissimo Non abbiamo trovato niente Quattro panchetti Mizzica niente Sei panchetti Hai detto Più tutta sta robetta qua Bene ragazzi Allora Noi adesso vi salutiamo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un like E Vi dobbiamo dire Che domenica Non ci sarà Il classico episodio Di Mario Kart Perché Introduciamo Una nuova rubrica Perché abbiamo Tu lo sai già Ma non te lo ricordi Per ora Abbiamo Un appuntamento Particolare Perché A noi piace Spacchettare Spacchettare Giocare E co Costruire Quindi domenica Non lo sono ricordato Domenica c'è una sorpresa Per tutti voi Quindi Attivate la campanellina Perché Così vi arriva la notifica E non perdete La sorpresa Che abbiamo in servo Per voi Mi raccomando ragazzi Commentate qua sotto Iscrivetevi al canale E se vi va Lasciate anche un like Da Roberto E da un tristissimo Jacopo E tutto Dai che c'è la spilletta pure Che ti frega Guarda che bella che è Eh sì vero In consolabile ragazzi Salutiamo allora Vai Ce ne ritorniamo Nella nostra tristezza Sì Ciao ragazzi Grazie Ciao 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 Ciao